Care scemmine, oggi siete una challenge stupide, carine per sempre, cacchetta, zucchetta, signor presse, che c'entra. Anche Ginevra e Maria Elena e Anna e Ambra, e anche l'altra Ginevra piccola è stupida, ma lei è piccola, non fa nulla. Signoresse, adesso ti scrivo una lettera io, come questa. Caro signoresse, molto stupido, perché c'è scritto questa lettera? Siete voi scemmine? Non è finita qui la lettera? Ok, vabbè, la provo a leggere, ragazzi. Caro signoresse, anzi, Maria Elena l'ha scritta questa. Cara Ginevra, ti faccio venire a casa mia per vedere il signoresse. Ma tu, che te ne importa, signoresse? Chi è che ci manda le lettere, soprattutto? Il signoresse. Bla 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 bla. Ma stupido. Ma stupido. Lì c'è un'altra lettera, la provo a leggere. Maestra. Questa è la scritta, la maestra. Un'altra è la maestra Giulia, che ci odia proprio. Davvero? Scherzo? Ci odia! Non lo mandare alle altre maestre. Ti prego, no. Non lo mandare a nessuno. Tenilo. Care due scemmine, se la maestra vi odia. No, no, no. Due quaranta. Due quaranta. C-O-O-D. Maria Elena. Io Ale. Ma, Maria Elena, non ci venne conto di invitare me per la fita più mini giurale. Screenfuga. Just 000 говорит me, Here, ? I love you live there.